Bianca Berlinguer si è confessata con il suo pubblico per quanto riguarda il suo esordio su Mediaset. Come sapete, la giornalista ha abbandonato Rai 3 per approdare con e sempre carta bianca su Rete 4, stesso format, ma decisamente su una nuova rete. La Berlinguer afferma, sarete stupiti di vedermi su questa rete, anch'io sono molto sorpresa. Ma è stata Mediaset a garantire le condizioni migliori per continuare quello che avevamo cominciato su Rai 3. Rai 3 resterà sempre nel mio cuore, ma con Mediaset abbiamo deciso di cominciare una nuova avventura. Tutto cambia, ma siamo sempre noi, con la stessa passione e la stessa curiosità. Ci auguriamo di non deludere chi ci ha seguito fino ad ora e anche l'affezionato pubblico di Rete 4. Sappiamo che non sarà facile, ma ce la metteremo tutta. Così conclude Bianca Berlinguer, che ha annunciato l'ospite fisso del programma, lo scrittore montanaro Mauro Corona, a cui lei è molto affezionata. Lei lo ha definito come un inseparabile amico del cuore e ciò ha fatto piacere ai fan storici del programma. Bianca Berlinguer ha cominciato il 5 settembre con E' sempre carta bianca e la vedremo anche a gennaio al timone di Stasera Italia, lo storico programma di Nicola Porro.